appassionati di gossip tv bentornati nel mio canale oggi torniamo a parlare del caso di denis pipitone la bambina scomparsa da mazzara del vallo il primo settembre del 2004 oggi la procura ha archiviato tutto le indagini che si erano riaperte a marzo sono state archiviate con un nulla di fatto non ci sono infatti sufficienti elementi per portare in giudizio anna corona e giuseppe della chiave piera maggio tramite i suoi legali si era opposta all'archiviazione di anna corona ma il gip ha rigettato la richiesta ed archiviato il tutto tra le motivazioni oltre alla mancanza di elementi sufficienti ad ipotizzare qualsiasi reato o ruolo degli imputati nella scomparsa della bambina anche il fatto che in caso di rinvio a giudizio d'assoluzione ad oggi certa visti gli elementi in mano agli inquirenti sarebbe stato impossibile tornare a processare gli imputati in futuro in caso di nuove prove esattamente come poi successo con la figlia di anna corona jessica pulizzi per il momento nessuna reazione da parte di piera maggio che qualche giorno fa aveva postato un messaggio con l'hashtag denis non si cancella e voi cosa ne pensate fatemelo sapere nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale per il momento è tutto al prossimo video ciao 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 ciao